Esiste un diamante magico che può esaudire ogni desiderio, ma la leggenda narra che ad ogni plenilunio possa esaudire un solo desiderio. Diamante magico! Forse qualcuno è arrivato prima di noi, capitano. Qualcuno saprà dove si trova quel diamante. L'ho trovato. Cosa? Prendetelo! Aiuto! Ti salverò, Pinky! Sta molto attento a quello che chiedi. Tu cosa decideri? Che questo viaggio non finisca mai. Come ha fatto a scappare? Preparate il grande cannone! Solo che speggio trovo a tuoi!